Da quattro anni il Laboratorio di Relazioni Pubbliche offre agli studenti la possibilità di lavorare su progetti concreti di comunicazione nelle diverse aree professionali della comunicazione. Quest'anno Coca-Cola Company Italia ha deciso di regalare una grande e ottima opportunità per gli studenti del Laboratorio di Relazioni Pubbliche chiedendo loro di elaborare un progetto di comunicazione sul tema del Natale. Sappiamo che il Natale è un tema molto caro Coca-Cola, gli studenti hanno lavorato per quattro mesi, sono stati coinvolti circa 140 studenti divisi in gruppi e alla fine di questo periodo di lavoro sono stati tre i gruppi vincitori, i gruppi migliori i cui progetti sono stati selezionati dall'azienda e nelle prossime settimane i progetti vincitori verranno presentati proprio ai manager dell'area marketing che stanno per iniziare a lavorare sulle idee creative per il Natale 2017. Coca-Cola è un grandissimo brand, una delle aree di comunicazione in cui Coca-Cola è molto famosa nel mondo è proprio la sua comunicazione durante il periodo natalizio quindi abbiamo pensato di cogliere al balzo questa opportunità di offrire come brief a ragazzi la possibilità di sviluppare un progetto di comunicazione del brand Coca-Cola legato appunto alla comunicazione di Natale di Coca-Cola. La cosa che ci ha sorpreso di più e mi ha sorpreso di più è la capacità di analisi che tutti i progetti mediamente hanno avuto cioè la capacità di andare a capire il contesto di riferimento, i pubblici verso quali comunicare perché spesso questo non è così scontato, normalmente ci si occupa, si va direttamente alla fine del progetto quindi ai risultati e agli eventi da svolgere e poco si sottolinea invece l'importanza dell'attività iniziale di preparazione. Ecco, Yulma è un soggetto accademico molto importante, in particolare ma non solo nell'ambito della comunicazione quindi un'azienda che fa della comunicazione il suo trade union con tutti i suoi pubblici come Coca-Cola non potevano avere un accordo, una partnership, un progetto di contenuti con l'Università Yulma. Siamo studentesse del corso di laurea in relazioni pubbliche e comunicazione di impresa al terzo anno ed abbiamo partecipato al progetto propostoci da Coca-Cola. Il brief che ci era stato dato da Coca-Cola è stato quello di reinventare il Natale per i teenager. Siamo partiti con un'analisi molto approfondita e dettagliata del target, delle preferenze, dei valori che i teenager associano al Natale. Il nostro progetto si è focalizzato più che altro sulla ricerca di coerenza tra i risultati che abbiamo ottenuto nell'analisi del settore e questa coerenza doveva essere mantenuta sia nella parte strategica che ovviamente nella parte di misurazione dei risultati. Il punto forte del nostro progetto è stato quello appunto di basare l'intera campagna sulla condivisione dei valori appunto del Natale da parte dei teen. Da questa esperienza che non neghiamo all'inizio ci ha messo anche un po' in difficoltà, si è rivelata poi un'esperienza molto positiva e molto formativa perché ci ha comunque consentito di mettere in pratica le cose che avevamo imparato in classe solo teoricamente e soprattutto di confrontarci con quello che è il vero lavoro di una grande azienda come Coca-Cola.